Sabato l'Associazione Libertà e Giustizia, che ho contribuito a fondare, farà una grande manifestazione per reclamare a gran voce le dimissioni del Presidente del Consiglio per un'Italia libera e giusta. Libertà e giustizia da 8 anni contribuisce alla rinascita della buona politica, però stavolta non bastano approfondimenti e dibattiti. Il mio maestro Paolo Giuntella mi ha insegnato che non esiste il centro fra giustizia e ingiustizia e un altro maestro, Paolo Silos Labbini, mi ha detto che qualche volta bisogna esporsi se si vuole continuare a guardarsi allo specchio la mattina senza vergognarsi. Per questo io invito anche te a venire sabato alla manifestazione.